Per me è molto importante questi eventi perché è una finestra della produzione audiovisiva italiana ma anche internazionale per il mondo. Io vengo della latinoamerica e per noi è troppo interessante come è sapere che cose sono e come questi racconti queste storie che si vengono anche dell'Italia anche può essere internazionale e andare al nostro mercato che possiamo condividere delle storie dei progetti sempre così buono conoscere dei nuovi registi tra nuovi produttori contenuti film sì io faccio la distribuzione e sono più focata su documentari animazione sono più sono qui per scusa e più per documentari siamo andate a guardare i pitch anche fare i miti con i produttori ed assicuro almeno 45 progetti mi ha interessato tantissimo per portare la latinoamerica nel cinema in generale io credo che è perché adesso come la forma in la che si vede o l'audienza del cinema in generale è molto più frammentata si deve di fare e pensare più in l'audienza in l'audienza e che è molto diversa perché anche c'è un sacco di contenuto e un sacco di canale e piattaforme tutto credo che se si pensa come più in che cosa vuole l'audienza più nel contenuto che dove è questo contenuto c'è una piattaforma c'è sul cinema c'è sulla tv questo è il come il reto principale fare tanto contenuto interessante per ogni audienza